buonasera a tutti inter lecce partita non fondamentale di più club castellano c'è anche l'ingegnere qua per le grandi occasioni un'occasione da non fallire oggi non perdiamola quando il gioco si fa duro i duri cominciano a combattere e lui c'è come noi ci saremo forse inter forse inter amala pericoloso per coppa contro il napolo Ma no, ma no! Non è bello, non è bello! Non è bello, non è bello! Ma subito! No, va, va, va! Pazzetto sangue! Falle metto in nuovo, per cambiare pazienza, questo non mi è meno! Ma non ti ho fatto la palla! Ma non te ne ho fatto nulla, non ti ho fatto il mio, ma non ti ho fatto il mio, bravissimo, è stupido dalmeno che va come un treno grande cosa grande padella grande padella grande padella non è facile mettere questa padella non è facile mettere questa padella commento su questo primo tempo è un primo tempo non molto soddisfacente abbiamo fatto il primo di rimporto dopo mezz'ora meno male che c'è stato quel gran gol però Danfris non piace il gioco lento con passato e giropalla così non piace quindi un primo tempo da 5 5 e mezzo solo per i gol un aggettivo per Danfris? imbarazzante è un problema è una cosa buona buona sì è il doro è il doro abbiamo fatto il secondo possiamo fare anche il terzo assiste di Donfris muove la chiora muove la lampia e possiamo fare pure il terzo gol perché abbiamo fatto il secondo che abbiamo fatto il secondo che abbiamo chiesto a Gemino all'intervista tra il primo e il secondo tempo che è bravissimo Parella a dare in profondità che cerca la porta la palla scappa via salutate la vice capolista secondi salutate la vice capolista caduta Cต��lo altra caduta lì laeni avala un un lì è